L'inglese John McAlone, il professore, partiti. Sono abbastanza pieno, all'altra parte lo presti, tutto solo, entrambi ex del Bagnara, Caccamo la ruba, Ciccio Bagnato, qui nel fondo perde il pallone per un attimo e poi segna. Sarebbe scontato dirlo ma mancano tantissimo Catanoso e Santo Vazzana, Surace, Natale. C'era, Costantino se la va a prendere, l'ultimo è arrivato, ancora per Comi, può sparare alla tre per sbloccare la situazione e realizzare. Ribaltamento in diagonale, ferma con Costantino, fraseggio, ancora Caccamo da tre, realizza Caccamo! Leone parte il contropiede in verticale, per il suo amico lo presti va da due, sbaglia, Gioffre ancora lì, carichissimo, realizza Davide. Ribaltamento per Costantino da tre, realizza Loggia Costa, in fondo c'è un contatto, and one, va dentro, da due reali. Sarico, scarico intelligente per John, Meccalo, in fondo contro l'avversario, segna. A prendere Santo fino in fondo, realizza Morabito, resta il tiro, scoppatone di Surfero, Caccamo, scarico per John, Meccalo, di Santo fino in fondo. Costiere del Bagnana, Surfero cost to cost, per Morabito, per Comi da tre punti, da tre, può andare su Surfero. Vazzana per Comi ancora da tre, Mauro, Mauro è incandescente! Scarico per Surfero da tre, passis per Kindamo, ancora per Surfero da tre, Bagnana è lì! Si ferma un po' prima Surfero da tre, si mola, va su, eccolo, Canesco. Caccamo fino in fondo con le yap, Giovanni Gruppi fino in fondo, inizia bene il pe... Marco Costantino, partenza fino in fondo, stoppa to... Scarico per Surfero da tre, il suo tiro realizza, per terra come all'asilo, la recupera Surfero per l'opresse e realizza. Gruppi fa tutto solo e realizza a giocare, Kindamo per Surfero, ancora per Natale, Surace da tre, da lontanissimo realizza. Può spingere il beve Imperatore, passa la palla a Gianni Gruppi con le lunghe leve, stoppatone! Non va, regula il suo rimbato, Kindamo arresto e tiro con le yap, realizza. Scorre tra le mani di Kindamo, un assist al bacio. Contro scarico per Costantino da tre, alzando la parabola, probabilmente intimidito da Surace, Vazzana da tre! Bello il palleggio, fino in fondo, stoppato, questa volta. Anque Santo, ribaltamento, Morabido per Costantino da tre, lo gioco, costa ancora! Non è intelligente, Gioffre da tre, Gioffre da tre! Morabido scarico intelligente per Gion, stoppa fino in fondo da due. Basso, Mecalon, segna. Libero aggiuntivo, non diamo un po' di nervo. Sormione, fino in fondo, realizza Antonio Caccamo. Cosa c'era dentro quell'Energate, amici sportivi? Bellalizza che è rientrato, è ancora bagnato da tre! E alta, fa tutto solo, Kruppi, sguscia e segna! Massimo per Costantino, ancora Vazzana da tre, Santo! Si gioca il post fino in fondo, scatta Molina di fondo, fino in fondo, segna! Per lui c'era, va su con le yap, casa della capolista gioiese, bomba di Morabido nel frattempo.